Parte Dybala, girare, gol! 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 Contro la noia realizza la gioia, la Juve in gol! Allarga le braccia con l'antuono, non ci crede, ma è così, è la verità, la Juve davanti 1-0 al minuto numero 14, secondi 35 con il numero 21, Paolo, la gioia, Dybala, Paolo, la gioia Dybala, Paolo la gioia Dybala, 1-0 per noi, siamo belli, siamo fieri, siamo tutti bianconeri attenzione al corner per la Juve, 1, 2, 3, 4, 5 maglie rosa, pronte a realizzare c'è anche Dybala di testa, porta vuota, gol! 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 Sammi Chedira faccia un gol! La Juve in gol! Terzo gol stagionale del tedesco, al minuto numero 18, incredulo con l'antuono Chedira libero di trasformare alle spalle di Carnesis, fratelli e sorelle, siamo già avanti 2-0 con il numero 6, Sammi Chedira! 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 Chedira ragazzi, chedira! Contro Carnesis, cappello corto, l'esperienza contro la brillantina, Paolo si concentra, vuole la doppiezza, Paolo, il sinistro di Paolo, gol! La Juve in gol! Paolo, la gioia, Dybala, 3-0 Juve! Alessandro, dall'uomo Alessandro, arriva veloce su una posizione anche... Adesso di Alessandro, gol! 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 La Juve in gol anche con Alessandro! Zig zagheggia il brasiliano! Sempre più triste con l'antuono in panchina, vede il poker della Juve contro i suoi! Con il numero 12, al minuto 41, Alex, zig, zag, Sandro! Primo gol con la maglia della Juve per lui, alla presenza numero 15!